1, 2, 3, 4, dai 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, dai bene il montante, bene il montante dai salvo, bam 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 carica, carica, dai 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, dai 3, copriti 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 30 1, 2, 3, 4, carica meglio non so chi sono i pochioni non c'è il allenamento vai, vai, vai vai, vai 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, carica 5, carica 5, carica 6, carica